Risorse regionali direttamente a disposizione dei comuni con due bandi che riguardano la sicurezza stradale e il restauro delle mura. Quali sono i particolari di questa iniziativa? La Regione Marche, sin dall'inizio del mandato della Giunta a Quaroli, ha scelto di stare al fianco dei sindaci e delle comunità locali. Ovviamente per la sicurezza, quella stradale, ma anche per la bellezza e la qualità degli interventi. Quindi qualità in orizzontale per garantire la sicurezza delle nostre strade di competenza comunale. Quindi arriveranno, come sono già arrivati, i finanziamenti a fondo perduto a favore dei comuni. E poi anche qualità verticale per la bellezza delle nostre mura, dei nostri palazzi. Quella storia che ci è stata lasciata dal passato e che rendono un unicum questa nostra regione. Entriamo nei particolari, vediamo un po' il bando della sicurezza. 7 milioni e 700 mila euro per i comuni marchigiani che parteciperanno ad un bando per rendere sicure le nostre strade. Non soltanto asfalti, ma sicurezza a tutto tondo per l'attraversamento dei pedoni, per la circolazione dei pedoni, per la circolazione dei nostri ciclisti. Se noi togliamo i pedoni e le biciclette dalle strade che attualmente vengono utilizzate dai veicoli, dalle automobili e dalle motociclette, rendiamo più sicure le nostre città. Ma noi diciamo anche più belle e più accessibili, anche per le persone che hanno difficoltà motorie. Quindi sono tutti interventi mirati a garantire la sicurezza delle nostre comunità e di stare al fianco dei comuni che spesso aumentano scarsità di risorse. Voglio ricordare che con questo intervento arriviamo a circa 150 milioni in solo i 45 mesi di giunta a Quaroli, attivati grazie agli interventi regionali nelle nostre comunità cittadine. 4 milioni invece per il recupero, il restauro, la ristrutturazione delle mura. È il secondo bando, il primo bando lo abbiamo fatto l'anno appena trascorso ed è la prima volta nella storia della regione che la regione Marche finanzia i comuni con dei bandi per il recupero delle mura. Abbiamo detto che sono luoghi identitari, sono un simbolo della nostra regione. La nostra regione è quasi tutto un borgo, non solo nell'entroterra ma anche lungo la costa, con delle piccole chicche, delle piccole perle architettoniche che molto spesso vengono abbandonate e invece rappresentano uno straordinario moltiplicatore turistico e di attrattività turistica proprio della nostra regione che altre regioni non possono vantare. Sindaco, nome di tutti i sindaci presenti oggi qui nella sala della Concordia, la soddisfazione per queste risorse messe in campo dalla regione? Sì, delle cifre importanti che anche noi come Comune di Fano proveremo a presentare dei progetti, speriamo che vengano finanziati, però un'attenzione particolare della regione nei confronti di tutti i comuni perché da 4 anni sono oltre 100 milioni di euro sia per quanto riguarda le mura storiche sia per quanto riguarda la sicurezza stradale. Anche noi nonostante siamo insediati da 20 giorni concorreremo molto volentieri.